Il sindaco e la giunta comunale devono intervenire con immediatezza nei confronti della regione molise della SEAC, concessionaria del servizio, al fine di individuare un'impossibile soluzione per scongiolare i licenziamenti paventati. Questo testualmente è il dispositivo dell'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Campobasso su cui c'è stata una convergenza di intenti di maggioranza e minoranza a Palazzo San Giorgio. La questione è quella nota dell'avvertenza SEAC, la società che gestisce in concessione dal comune di Campobasso il trasporto pubblico urbano e che oltre a decidere una sensibile riduzione delle corsi ha disposto il licenziamento che acquisterà efficacia nei prossimi giorni di otto lavoratori. Ciò in quanto, come ha fatto sapere l'amministratore delegato della società Costantino Potena, con la legge finanziaria 2017 la regione molise ha stabilito la riduzione del 30 per cento del finanziamento per il costo del servizio urbano della città di Campobasso. La SEAC a gennaio ha iniziato la procedura per il licenziamento collettivo di circa 10 unità, successivamente dopo diversi incontri tra le parti la riduzione è passata al 25 per cento e poi da luglio al 10 per cento fino al 31 dicembre di quest'anno. Il contratto di servizio fra comune SEAC è stato ancora una volta prorogato fino al 31 dicembre prossimo in attesa della gara per l'affidamento dell'appalto. Il taglio delle corse sarebbe un effetto della riduzione dei chilometri rimborsati come tra contratto che sono 920 mila rispetto al milione e 88 mila dello scorso anno. L'altro effetto sarebbe quello della procedura di licenziamento per otto lavoratori. Il condizionale è d'obbligo perché i contoni della vicenda non sono mai stati del tutto chiari. Perché ad esempio la società licenzia otto lavoratori con un taglio del 10 per cento del finanziamento mentre ne avrebbe licenziati circa 10 con il taglio originario del 30 per cento? Una delle tante domande rimaste in evase. I punti fermi sono tre. La regione Molise ha ridotto con la legge finanziaria di quest'anno il finanziamento per il trasporto pubblico locale che è una delle materie su cui la stessa costituzionalmente competenza scaricando nel caso di specie il problema sul comune di Campobasso. Il comune di Campobasso non ha risorse economiche per coprire quel 10 per cento di finanziamento tagliato dalla regione Molise. La SEAC ha deciso di sopprimere molte corse dei bus a Campobasso specie quelle delle contrade con difficoltà enormi per chi deve raggiungere il centro cittadino e mandare a casa otto lavoratori. Adesso una corsa contro il tempo per scongiurare i licenziamenti. I lavoratori SEAC da lunedì scorso presidano ad oltranza la sede di Palazzo San Giorgio. Sono loro le prime vittime della vicenda insieme a cittadini a cui non viene pienamente assicurato un servizio pubblico essenziale. Nelle ultime ore gli appelli del vescovo di Campobasso Bregantini e del consigliere regionale Petraroia per scongiurare i licenziamenti ma diversi a diversi livelli sono le responsabilità.